Un bacio e un grande saluto a Gossip News da Daniela Ferolla. Nel 2001 è stata eletta Miss Italia. Oggi, dieci anni dopo aver ceduto la fascia, la bella Daniela Ferolla tira le somme di un decennio nel mondo dello spettacolo. È un bilancio? Ma guarda, direi molto positivo, molto positivo perché comunque Miss Italia ti offre tante possibilità, poi sta a te ovviamente cogliere quelle giuste e io ho cercato comunque insomma di sfruttare l'occasione, anche se poi ho pensato anche a studiare, comunque insomma quindi anche alla qualità, non soltanto alla bellezza. Il Signore mi aveva, come dire, mi ha donato questo grande dono e in qualche maniera cerco di sfruttarlo e di utilizzarlo al meglio. Di certo Daniela non si annoia mai. Oggi conduce un programma in tv e dopo aver vinto la fascia nel 2001 ha fatto moltissime esperienze e anche tante esperienze.